Rifiutava le cure mediche, aveva ricevuto più di un TSO, ma non veniva ritenuto pericoloso. Graziano a fratellanza, 40 anni, affetto da un disturbo psichico-depressivo, fermato ieri dai carabinieri sospettato di aver sgozzato e ucciso i suoi anziani genitori nel sonno. Lo hanno trovato che vagava lungo la strada che collega Villa Literno a Cancello ad Arnone. La notte prima avrebbe sgozzato i genitori mentre dormivano in via Scipione, l'africano a parete. Ieri l'hanno trovato che vagava tra i vialetti di campagna di via Santa Maria Cubito. Ma quando i militari hanno imposto l'alt, lui non ha ammesso di aver ucciso i suoi genitori, limitandosi a dire che lui non mangia carne e che il sangue proprio non lo vuole vedere. Ma nella sua auto c'era il maione sporco di sangue. Da ieri Graziano è rinchiuso nel reparto psichiatrico del carcere di Santa Maria Capuavetere con l'accusa di omicidio volontario. Ma i vicini raccontano di anni difficili tra liti e minacce. Dicono che era un pazzo, lo dice tutto parete. Sì, aveva dei problemi perché era un po' di esaurimento queste cose qua. Cinque o sei mesi fa ho sentito che lui ha tentato un altro omicidio di uccidere la mamma. Cinque o sei mesi fa. Si è imbiccato già due volte, due volte ha fatto il tentativo di imbiccarsi. Era una persona mite, però aveva problemi di salute, problemi psichiatrici, quindi stava sotto cura. Poi altri aspetti di vita familiare non li conosco, mi dispiace perché erano brava gente. Poi altri aspetti di vita familiare non li conosco.